ogni tanto qualcuno mi chiede ma se tu non avessi fatto l'attrice cosa avresti fatto nella vita credo che non sarei stata in grado di fare altro ho capito che stare sul set ho capito che recitare era l'unico modo per per stare in pace con me stessa questo mi dicono si chiama talento negli anni chiaramente sono diventata una donna sono diventata per fortuna anche una mamma e questo forse è stato quel il momento in cui ho capito di voler realmente fare questo lavoro perché amo mio figlio più della mia vita ma ho capito che una mamma realizzata è sicuramente una mamma più felice perché poi le donne si sa insomma sono delle forze della natura diciamo riusciamo a fare veramente tante cose probabilmente se ci fermassimo ci sentiremmo perse noi più cose facciamo meglio riusciamo e mi fa divertire molto l'idea di raccontare una donna oltre grazie